Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vedremo insieme la terza maglia del Newcastle per la stagione 22-23, cioè la prossima, in edizione FAN. Realizzata da Castor, la terza maglia del Newcastle 2022-23 è ancora una volta sponsorizzata da FAN88 e presenta per la prima volta il nuovo sponsor sulla manica NUN. La terza maglia introduce una fresca combinazione di colori per il club. Combina una base grigio chiara, che in foto sembra quasi bianco, con loghi e applicazioni verdi. La combinazione di colore evoca i colori della maglia dell'Arabia Saudita, nazione dei proprietari del club. Un bordo sempre verde arricchisce il girocollo e i polsini delle maniche. Semplice, pulita ed elegante. Una maglia fresca da indossare nella vita di tutti i giorni, non solo per andare allo stadio. Cosa ne pensate? Secondo me bella, semplice, perché comunque di base ha due colori, il bianco e il verde di sponsor, sponsor tecnico e sponsor. Però nella sua semplicità, secondo me molto elegante, prende 4 stelle, una maglia bella da portare anche tutti i giorni, con un paio di jeans mentre si va banalmente anche in ufficio. Trovate qui in alto il costo, come vedete bassissimo e vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e anche dei link per ottenere dei coupon e quindi il costo diminuisce ulteriormente. La maglia è fatta molto bene, per la prima volta prendevo questa marca, diciamo così. Prima di lasciarvi, come al solito, vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per essere aggiornati su prossime recensioni. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75m e peso 70kg circa, quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Grazie a tutti! Grazie a tutti!